Guardate, questa è la bellissima sala del principe e sono qui con il professore che ci spiega un pochino la storia di questo nostro castello meraviglioso. È un castello molto antico, forse uno dei migliori conservati in Sicilia, la cui storia si perde, diciamo, nell'antico, molto antico. Si dice che si chiamava addirittura non Castello dei Chiaromonti, come lo conosciamo ora, ma Castello d'Edalio, dal mitico d'Edolo, giunto in Sicilia alla corte di Cocalo. E per ringraziare l'ospedalità ci ha costruito questa primitiva fortezza. Ma qui abbiamo avuto tantissime famiglie importanti che sono passate. Tante dominazioni, dagli arabi ai bizantini, arabi, greci e tutto il resto. In ultimo, possiamo dire, oltre romane, greci, in ultimo i Borboni, i nostri andenati e non molto vicino a noi. E in ultimo, in ultimo i Piamondesi che volendo o non volendo ci hanno governati per parecchio tempo, fin quando siamo arrivati alla Repubblica. Ecco, questo è stato un breve accenno della storia del nostro bellissimo castello. Perché come vi dico sempre nelle mie dirette, Naro non è solo cucina, a Naro abbiamo tantissime tradizioni, storia, cultura. Io sono qui per cucinare, preparerò una ricetta tipica del nostro territorio. Un macco di Fabi, professore, che ne pensa? Ecco, bellissimo. Una bellissima, pietanza, un piatto gourmet della cucina tradizionale di Naro. Anche perché la cucina di Naro è una cucina importata e assfatta da noi. Per esempio, dei greci abbiamo preso la semplicità della cucina, dagli arabi il contrasto tra lo speziato e dolce, dai francesi la raffinatezza dei sughi francesi e dagli spagnoli la sondosità della preparazione dei pranzi. Quindi a chi possiamo far risalire questa pietanza il nostro macco che si prepara con le fave? Il macco la possiamo far risalire ai greci e poi anche agli arabi. Ecco, quindi seguiteci nelle nostre storie e nella mia diretta perché oggi prepareremo questo con voi. Grazie, professore. È stato un piacere. Anche per me. Ciao. Ciao.